A colpo d'occhio, i lavori di Gonzalo Keen sembrano voler superare la soglia del postmoderno verso qualcosa di nuovo o di molto vecchio. Lo stile del giovane artista, perciò, da subito, si mostra non facilmente collocabile, soprattutto in visione delle sue opere, in generale, su tavolo e su parete. La chiara corposità dei suoi dipinti si avvicina più alla frizione satinata di un affresco che a quella che ci si aspetta dal lavoro di un 29enne. Colpisce inoltre come questi dipinti si presentino come opera di un pittore forte. Orkin non usa fotografie, proiezioni, ingrandimenti, sotterfuggi, ma esclusivamente persone vide. Nelle sue opere domina l'arte figurativa. Il mondo contemporaneo compare non solo nei volti privi di pensiero, ma nei suoi temi. Al prossimo episodio Grazie a tutti.